Alcuni anni fa la troupe con cui lavoravo, allora ero il co-sceneggiatore e l'aiuto regista. Questa troupe, noi giravamo in un lontano, sperduto paesino della Sicilia, fu invitata a cena da un possidente locale, potremmo definirlo un anziano gentiluomo all'aspetto, molto educato, molto gentile e molto sorridente, il quale ci offrì questa cena e ci ringraziò per essere dei cristiani educati. Termine che mi colpì particolarmente e che voleva dire? No, voleva dire che noi ci eravamo presentati in questo paese e vi faccio un esempio, disse con questo tono, con questa cadenza siciliana da vecchio gatto pardo. Se voi passate in una strada e trovate una casa con un bel giardino, il cancello è aperto e voi entrate e passate in questo giardino dove i fiori sono curati e poi arrivate alla porta di casa e la porta di questa casa è aperta e voi entrate e vedete che ci sono i mobili, ci sono le tende, le finestre, tutto è pulito e messo a posto. Voi che cosa fate? Chiedete il permesso, perché la casa sarà sicuramente abitata da qualcuno. Ecco, voi siete venuti qui e avete chiesto il permesso. Io vi ringrazio e vi invito a cena per dirvi che siamo felici di offrirvi la nostra ospitalità. Questo discorso, che sembrava un discorso particolarmente educato e quasi di ospitalità, in realtà non era altro che il compenso perché la produzione quasi sicuramente, anzi ne sono certo sicuramente, aveva pagato un pizzo per poter girare. Infatti il volto di questo signore dopo qualche anno io lo ritrovai su una pagina di giornale arrestato come uno dei capi della mafia e da capo si era comportato e le sue minacce erano state, sì, forbite come nei romanzi da una patina di educazione, ma in realtà la sostanza era quella e infatti per questa ragione mi aveva impressionato. Ora vi racconto questo piccolo aneddoto per dire che ho una conoscenza di prima mano con la mafia, fortunatamente soltanto folcloristica, però in realtà l'ho sfiorata, ho potuto vedere uno dei suoi uomini in azione e mi ha quindi particolarmente colpito il film di Bellocchio, il traditore, che proprio di mafia parla e parla di uno dei protagonisti della mafia che è Buscetta. Ora, il film è straordinario per la resa drammatica, per la forza che riesce a comunicare attraverso questo personaggio, il quale racconta praticamente l'evoluzione della mafia da una partenza agricola ai suoi passaggi attraverso l'industrializzazione e poi il grande boom della droga. Lo racconta in maniera epica ma non gloriosa, lo racconta con una forza drammatica molto importante senza mai creare degli eroi ma anzi facendo vedere come dietro la maschera di questi personaggi ci sia una tragicità umana e uno squallore che sono veramente esemplari. Cioè voglio dire che a differenza di Gomorra che esalta e che dà invece una specie di leggenda nera alla mafia o alla criminalità, alla delinquenza in generale o a certi film americani in cui praticamente i boss alla fine diventano quasi degli eroi o sono addirittura degli eroi, nel traditore noi vediamo anche la miseria, la meschinità, vediamo anche la feccia umana che poi riesce, proprio comportandosi in maniera disumana, ad avere potere e ad avere forza. Cioè forse ci fa capire il confine con cui noi, diciamo così, società civile, siamo in grado di non essere così delinquenti perché non faremmo mai le cose che farebbero loro e di conseguenza crea un solco preciso che è al di là della moralità ma è proprio il comportamento umano. Ora, sotto questo aspetto il film ha un grande valore e ha un grande valore didascalico ed è una delle poche volte in cui, a mio giudizio, per carità, Bellocchio riesce a superare le didascalia per arrendere invece una situazione che non sia puramente e banalmente ideologica ma invece anche emozionale e forte. Il film è interpretato da un magnifico Pierfrancesco Favino che addirittura è ingrassato, credo, almeno di 8-9 chili per dare la presenza di questo personaggio che chiaramente con una finezza in un'intervista Favino ha proprio sottolineato questo fatto come la prestanza di certi manfiosi in realtà sia sempre appesantita da un certo tipo di cucina, da un certo tipo di vita e di conseguenza lui ha voluto curare anche questo aspetto, questa homo de panza che in fondo c'è sempre, c'è sempre questo lavoro nonostante i vestiti eleganti e nonostante l'internazionalità. Bene, questa è una finezza interpretativa che si apprezza particolarmente perché Buscetta nel film è anche questa presenza perché è un uomo affascinante, è un amatore, è qualcuno che tiene al suo aspetto e di conseguenza questo modo di porgersi, questo modo di rappresentarsi è per l'attore che lo interpreta veramente importante, dà una grande credibilità al personaggio. L'altro personaggio perfettamente riuscito è quello interpretato da Luigi Locascio nel personaggio di Totò Ciotunno il quale riesce a rappresentare proprio la prigione di una certa mentalità mafiosa dalla quale invece Buscetta è uscito, cioè è come se questo personaggio fosse rimasto prigioniero proprio della dimensione agraria, della dimensione provinciale, diciamo al massimo regionale, mentre invece Buscetta ha capito il valore dell'internazionalità è uscito al di fuori, quindi uno parla dialetto e l'altro invece Buscetta parla le lingue, parla il portoghese, parla l'inglese, cioè si capisce meramente che è aperto a nuovi orizzonti, ha la capacità di interloquire in vari modi e non solo in vari modi ma anche a vari livelli, tanto è vero che riesce a parlare con Falcone riesce a denunciare la mafia e riesce a fare tutta una serie di cose come per primo, quindi a testimonianza della loro intelligenza e della sua preparazione. In ogni modo, il film ha, non posso dimenticare, anche un cenno a Fabrizio Farracane che rappresenta il personaggio di Pippo Calò, il traditore dei traditori, l'ambiguo, l'eminenza grigia della mafia e che riesce a dare una credibilità assoluta a questo personaggio proprio nelle sfumature e nelle ambiguità, un personaggio estremamente difficile che viene reso invece con una squisita nonchalance, quasi proprio che l'attore fosse il personaggio, quindi una recitazione molto suggestiva. Il film in realtà nel suo complesso non parla solo di un traditore ma parla di una serie di tradimenti e il gioco è questo, è uno splendido gioco ad incassi come delle scatole cinesi, come delle matriosche. In realtà noi che cosa abbiamo? Abbiamo il tradimento di una famiglia mafiosa, che la vediamo prima felice e poi con tutti i tradimenti, ma c'è anche il tradimento della famiglia vera e propria che è la famiglia del nostro protagonista che viene distrutta perché lui sotto certi aspetti l'abbandona, c'è il tradimento dello Stato nei confronti del pentito perché tutto il lavoro che compie il giudice Falcone e tutto il lavoro che riesce a costruire pezzetto per pezzetto per poter costruire questo castello di accuse, in realtà poi viene tradito dallo Stato, che emette tante condanne, ma nel momento in cui si sale di livello, in realtà il lavoro di Buscetta e il lavoro di Falcone, la confessione di Buscetta e il lavoro di Falcone, viene sotto certi aspetti vanificato. Il tradimento è anche il tradimento della società civile che praticamente si trova abbandonata proprio da Falcone, che viene ucciso e quindi è come se come Buscetta ha lasciato i suoi figli così Falcone ha lasciato noi. In realtà, chiaramente Falcone ha lasciato noi per sua lontà, poverino, ma l'ha lasciata per un fatto criminale e terribile, è stato ucciso a Capaci, ma in realtà questa morte, questo attentato di Capaci è il coronamento di tutta una serie di tradimenti e questa visione è una splendida intuizione del regista di Bellocchio che riesce a dare un completo quadro della situazione nella rappresentazione meravigliosa e teatrale del maxiprocesso, dove in realtà noi assistiamo a quello che in fondo è una grande farsa perché poi, nonostante le fortunate condanne che ci sono state, non siamo andati oltre e la mafia non è stata sconfitta, quindi nonostante la fatica, nonostante la dannazione di tutti i protagonisti di questa storia, alla fine non siamo riusciti a sconfiggere la mafia, ma come ci insegna il film e come ci aspettiamo noi, prima o poi ci riusciremo perché esiste questa forza da parte dei giusti contro loro che si comportano in maniera ingiusta. e noi non siamo quei criminali e non siamo quei delinquenti che pur di sopravvivere schiacciano gli altri. Noi cerchiamo invece di sopravvivere e soprattutto di vivere in armonia con tutti gli altri. Grazie. Grazie.